In sinistra le donne, tutte con le connellate, quelle che vedete arrivati sono i vestiti di loro cammini e i vestiti di loro sanitario. Questo è un giudice, io ve lo comparto, con la coda. Oppure lui è un magistrato. Sì, sì, sì. Lui è Marconorio da Ponte, un magistrato. Lui è scendere per a calcio un cavaliere con la spada. Lei invece è donna Sleva Gesuardo, spessa di Montesanto. Lei è Maria da Ponte. Quindi sono tutti i nostri napoletani, se voluti qui. E qui c'è il pittore Giovanni Balducci, che ha realizzato la Santa Canerina che abbiamo visto dall'altra parte. Giovanni Balducci, il nome si legge ancora, speriamo sì. Ancora per come? La tavolozza dei colori, i pennelli e la squadra. Per nostra fortuna siamo per iniziare il ristauro. Sia l'era che, infatti avete visto, c'erano le palcature. Abbiamo per fortuna, abbiamo un cimino ulteriore finanziamento, dove siamo per iniziare i lavori di restauro in critica. E qui c'è il Cristo riposto dalla croce, sull'altare, sempre dietro la barocca. E qui abbiamo un cresco del quinto secolo. Grazie. 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 Grazie.